Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito, sappiamo che sei sempre in prima linea per queste serate di beneficenza, ti ringraziamo. Ringrazio io voi perché siete... non c'è. Non si sente? Non si sente. Un altro microfono per favore. Proviamoci questo. Ci sentiamo? Ok. Se no urlo di più, non c'è problema. Mettiamo il turbo. Si sente, eccolo qui. Si sente, si sente. Ok, io ringrazio voi perché siete straordinari, tu sei solare e bellissima. Grazie, grazie mille. È una serata meravigliosa e grazie a tutti. Spero che continuiate a divertirvi fino alla fine perché c'è ancora tanto. Grazie, ti lascio il palco, buon ascolto. Grazie mille. Grazie mille. di 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 l di 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 Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Ascoltarti è stato meraviglioso. Un piccolo omaggio per te da parte nostra. Grazie. Grazie. E anche per te ovviamente il nostro portafortuna. Grazie. Grazie a te perché ci hai fatto sognare. Grazie a te. Grazie. 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 Grazie.